Per Chioggia Azzurra siamo con l'assessore Lanzarin alla Sanità e al termine della giornata dedicata al turismo sostenibile. Per i prossimi progetti sul tema turismo sostenibile quali saranno? Questo è un progetto biennale quindi continua anche per tutto il 2023 sposando appunto la stagione estiva piuttosto che la stagione invernale. E' chiaro che noi continueremo a investire sull'accessibilità a 360 gradi, sugli inserimenti lavorativi e anche sull'esperienza di autonomia abitativa. Mi sembra che quest'anno abbia avuto molto successo comunque il progetto, i risultati che avete portato sono stati molto interessanti. Il progetto sta andando molto bene e credo che uno degli obiettivi principi su cui insomma abbiamo già vinto tutti insieme è quello dell'inserimento lavorativo perché se poi alcuni contratti a tempo determinato che avevano la finalità della stagione turistica si trasformano in contratti a tempo indeterminato io credo che alla fine insomma questo sia il risultato principale che potevamo ambire e soprattutto percorrere per questo progetto. Leni grazie moltissimo. Grazie a tutti.